carissimi fratelli e sorelle gioia pace in abbondanza a tutti voi la grazia del signore che è la manifestazione della sua bontà la grazia del signore che la benevolenza che lui averse ciascuno delle sue creature riempi l'universo questa grazia è da sempre e dura in eterno per quanti temono il signore oggi fratelli la chiesa italiana invita tutti noi a una giornata di preghiera accompagnata da digiuno per impedire la pace nel mondo stiamo vivendo tempi difficili lo sappiamo non c'è da chiudere gli occhi da conare la testa a far finta di non sapere il mondo si trova su una polveriera gli odi gli nemicizi le rivalità derivarsi capricci si stanno moltiplicando e il signore vuole la pace il signore vuole la salvezza non solo dei popoli dell'umanità ma anche di ciascuno di noi e ci chiama a conversione per questo allora la chiesa italiana ha accettato una proposta è stata fatta dal patriarca di gerusalemme un signore pizza balla è stata per anni custode di terra santa poi è letto vescovo patriarca di gerus cattolico di gerusalemme e in questo periodo si trova a roma persino degli vescri ha incoraggiato a offrire al signore una giornata di preghiera di digiuno per impetrare il dono della pace innanzitutto per il popolo di israele per il popolo ebraico e per i palestinesi ma una pace che sia segno di conversione come si ricorda il profeta Isaia nel 58 capitolo dove si parla del digiuno si parla della preghiera e il signore dà delle indicazioni e rimprova il popolo di quel tempo nel tempo del profeta perché di fronte al pericolo erano pronti a fare digiuni a fare preghiere sacrifici ma era semplicemente per ottenere qualcosa il signore invece con la conversione sincera del cuore dice infatti il profeta mi ricercano ogni giorno bramano di conoscere le mie vie come un popolo che pratica la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo dio mi chiedono giudici giusti bramano una vicinanza di dio e la gente si chiede voi a che serve tutto questo se non si ottiene quello che si chiede e signore ecco risponde per bocca del profeta nel giorno del vostro digiuno voi curate i vostri affari angariate tutti i vostri operai voi digiunati fra letigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui non digiunate più così come fate oggi così da farlo dire in alto il vostro cuore e allora qual è il digiuno che dio gradisce ecco lo dice il signore sciogliete le catene inique togliete i legami del gioco rimandate libri gli oppressi e spezzate ogni gioco dividete il pane con l'affamato introducere in casa i miseri senza tetto vestiti chi è nudo senza distogliere gli occhi da quelli della vostra casa allora la luce sorgerà come l'aurora ecco il digiuno che dio chiede la conversione del cuore tornare lui con tutta l'anima e il signore fratelli gradisce il digiuno alimentare cioè privarsi di qualche cosa o di tanto per dire signore tu per me sei più importante di anche del cibo quotidiano questo è il senso del digiunare di rinunciare a qualche leccorne a qualche piacere della bocca ma c'è anche un altro tipo di digiuno che consiste nel non parlare male del prossimo vivere nella gioia perdonare il proprio fratello soccorrere il malato ecco quella la penitenza che dio chiede all'uomo fare giustizia per il povero soccorrere il misero e tutto deve concorrere a cercare l'intimità con dio noi non dobbiamo avere a che fare con le cose ma col signore dobbiamo avvicinarci al signore lasciarci lasciare che lui si avvicini a noi quindi digiunare noi potremmo descriverlo come aprire fare spazio alla grazia di dio nella nostra vita aprirci alla grazia del signore al suo amore misericordioso ecco il digiuno che dio gradisce che deve essere accompagnato dalla preghiera e la preghiera è aprire il cuore a dio oggi la chiesa ricorda fratelli un grande santo del secondo secolo santo ignasi di antiochia vescovo di antiochia era molto avanzata in età e fu preso durante una persecuzione sotto l'impero di traiano e condannato ad essere divorato dalle belve e fu mandato a roma perché nel circo doveva servire come oggetto di spettacolo quando veniva dilaniato e divorato dai leoni pensate che bello spettacolo eppure lui durante il tragitto che porta che lo portava dalla siria a roma ebbe modo di scrivere diverse lettere molto belle sono davanti da meditare parole per parola erano innamorate di gesù cristo e i cristiani di roma saputo la cosa si preoccuparono di far provare all'imperatore pietà per questo uomo anziano e vogliono farle ottenere la grazia e lui che scrive i cristiani di roma dicendo io ho teso tutta la mia vita a questo momento per ricongiungermi al mio dio per cui se voi mi otterrete la grazia vuol dire che mi avete odiato allora dice se morirò macinate i denti dei leoni per comporre il corpo di cristo allora vuol dire che voi mi avete amato se non morirò vuol dire che mi avete odiato e lui supplica i romani non ottenetemi la grazia lasciate che io sia divorato appunto dei denti dei leoni sia macinato per comporre il come farina il corpo di cristo e lasciatemi essere il nutrimento delle belve dalle quali mi sarà dato di godere dio vedete questo uomo non mirava cose mirava a dio se tu oggi digiuno mira al signore non mirava a pagamento o a degli obiettivi che per quando nobili ma che mettiamo al posto di dio perché peccato proprio in questo consiste nel distaccarsi da dio per rivolgere la propria vita il proprio cuore alle cose ecco allora accettiamo questo invidio che oggi il signore ci fa e nella liturgia di oggi la chiesa ci offre un brano dalla lettera ai romani dove l'apostolo spiega come l'uomo distaccandosi da dio si è fatto vittima del peccato pur avendo conosciuto dio dice non gli ha reso glorico ma a dio non lo ha ringraziato ma avvaneggiato nella sua mente ottusa per cui dai sapienti di un dato storto si deve confondere le creature col creatore che è benedetto nei secoli no non dobbiamo cercare dio è per lui dare anche la vita appartenergli essere suoi vivere nel suo amore che dura per l'eternità e ricordiamoci anche il mondo che ci circonda il creato ci parla di dio i sieri infatti narrano la gloria di dio dice salmo 19 l'opera delle sue mani annuncia il firmamento il giorno a giorno ne affida il racconto ecco allora fratelli ciò che dio chiede la penitenza lui vuole che torniamo a lui condotto il cuore e che ci lasciamo amare e gli permettiamo di compiere anche i miracoli in nostro favore ma non per merito ma per la sua bontà signore manifesta la tua potenza ti preghiamo per tutti i poveri che stanno soffrendo violenza, guerre, nemicizie ma ti presentiamo anche tutta l'umanità o signore che sembra aver smarrito l'istenza della vita fino a scambiare la ricchezza, il piacere, il potere con te tanti hanno abbandonato te per cercare le cose che non riempiono il cuore che appesantiscono il cuore dell'uomo e lo allontanano da te misericordia signori pietali in noi donaci questa sapienza seduci la nostra anima perché torniamo a te con sincerità di spirito dando ti lode e amandoci gli uni gli altri come tu ci hai insegnato a te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli ame Vergine Santissima dolce Madre nostra che da tanti anni ti manifesti nella Chiesa in tanti posti, in tanti modi per sollecitare il ritorno del cuore umano al figlio tuo Gesù Cristo prendici per mano seduci la nostra anima innamora di Gesù tuo figlio nostro Signore che sia lui la nostra vita vita della nostra vita è lui la nostra pace è lui la nostra salvezza a lui gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli ame e non dimentichiamo oggi fratelli di accettare questo invidio che la Chiesa ci fa a mettere davanti ai nostri cuori il dono della pace soprattutto per i poveri che stanno soffrendo ame